Auto blu in vendita. Qualcuno si era illuso che davvero a Roma avessero finalmente tagliato i costi della casta e messo all'asta i simboli dei privilegi? Beh, allora sappia che un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle ha smascherato parlamentari e dirigenti ministeriali e messo in luce tutta la carica demagogica dell'operazione mediatica condotta in primis dalla televisione di Stato. A fronte delle 170 auto messe in vendita con grande risonanza ce ne sono altre 210 che saranno acquistate. Sul sito web della Consip, la società del Ministero delle Finanze nata per razionalizzare gli acquisti con tecnologia all'avanguardia, c'è un bando che stanzia 23 milioni di euro per le nuove auto blu. In ogni caso, sia 170 sia 210 sono soltanto una goccia nell'oceano delle 59 mila auto in dotazione in tutto il paese ai privilegiati del settore pubblico e le amministrazioni romane contano su ben 1.663 veicoli in circolazione. E c'è di più. Fino al 2011 l'Italia era l'unico paese al mondo a non sapere su quante auto pubbliche poteva contare. C'è voluto un censimento. E ciliegina sulla torta, le auto blu in vendita pare siano dei catorci per nulla competitive con auto di pari cilindrata ed età di altre in offerta nel mercato dell'usato.